Una volontà, c'è stata, c'era una volontà di entrare in quel Parlamento, tanto è vero che poi insomma è morto un poliziotto per difendere. Sì, una volontà abbastanza elementare perché tentare di entrare nel Parlamento inglese con un'auto e con due coltelli penso che vuol dire non sapere esattamente come sono i sistemi di sicurezza in Inghilterra e soprattutto nel Parlamento inglese. Quindi per fortuna non c'è stato nulla di strutturato, per fortuna nella disgrazia. Sono d'accordo con Emanuele Fiano quando utilizza la parola odio, odio nei confronti di tutti coloro che non la pensano come loro, quindi odio nei confronti degli occidentali, odio nei confronti, anche come diceva giusto Emanuele, nei confronti di quel mondo islamico che comunque oggi come oggi, secondo me non è tantissimo, ma esiste, oggi come oggi condanna tutte queste violenze. Secondo me non è tantissimo perché la maggior parte stanno in silenzio e lo vediamo anche, l'abbiamo visto anche dopo tutti gli attentati che ci sono stati anche negli altri paesi europei. È indubbia però anche una cosa che è vero che non è che tutti gli islamici sono terroristi, ma è altrettanto vero che oggi, in questo momento, il terrorismo è islamico, è di matrice islamica. E quindi una maggiore attenzione nei confronti di queste comunità che ci sono ormai in tutto il mondo deve avere un occhio di riguardo. Si parlava del decreto, quello contro la radicalizzazione, ben venga perché è quello che stanno chiedendo tutti, tutta la società civile italiana lo sta chiedendo, la politica italiana lo sta chiedendo da anni e di conseguenza nel momento in cui arriverà in Parlamento penso che tutti faranno la loro parte per cercare di dare il miglior contributo possibile.